Siamo qui col portiere Francesco Lamarra, quest'oggi poco impegnato poiché Procida ha spinto per 90 minuti ma in quelle poche occasioni si è fatto trovare sempre pronto. Un giudizio sulla partita in generale, come è andata? La partita è sicuramente andata bene, noi abbiamo fatto la nostra partita, peccato che è mancato il gol però abbiamo creato molto e io personalmente ho avuto pochi tiri, poche occasioni quindi ci siamo difesi molto bene. Un Lamarra sempre pronto e con un ottimo feeling anche con i difensori, soprattutto la coppia centrale composta dal capitano Micalo e da Russo ormai siete tranquilli lì dietro, almeno in queste prime due giornate. Sì, ormai si sta consolidando sempre di più questo nostro feeling, come hai detto. Con Micalo già ci ho avuto a che fare l'anno scorso quindi già mi trovo benissimo ma con Giorgio è la stessa cosa veramente sono due centrali ottimi e penso che abbiamo una buona difesa. Va bene, grazie, grazie a Francesco Lamarra.